Una troia, valdracca, zozza, vacca, lesbica, puttana, scrofa, meretrice, maiala, il cui spazio fra l'alluce e il melluce, fra il melluce e il trillice, fra il trillice e il pondolo, fra il pondolo e il minolo, cosparso di sperma. Quella è l'unica donna degna di essere chiamata madre. Perché la figa non è una realtà, ma un concetto, e l'identità non è una realtà, ma una fessura, e la... Presidenti, esperienze lavorative. Nostra legge è la libertà, nostra patria è il mondo intero. Credere, obbedire, combattere, la mano invisibile del mercato, il massimo della felicità per il maggior numero di persone, nostra legge è la libertà, nostra patria è il mondo intero, credere, libertà, combattere, la mano invisibile della patria, il massimo della felicità per il maggior numero di credere, nostra legge è la felicità, nostra patria è il mercato, credere, libertà, mano, la mano invisibile delle persone, il massimo dell'obbedire per il maggior numero di patria, nostra legge è l'obbedire, nostra patria è il mercato. Capacità e competenze personali. Capacità e competenze personali Wow, look at that, so there's eggs, so how many eggs does this fish have you think, more than a million? More than. More than a million eggs, wow. More than a million eggs. It's supposed to be very right. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. , Grazie a tutti.